Professor Degli Esposti, Professor Bennato, Professor De Luca Picione, l'offerta di questa settimana. Cominciamo da Catania. Professor Bennato. Ma per quanto mi riguarda, cinema italiano in grandissimo spolvero questa settimana, perché ci sono, diciamo sì, tutte le sfumature possibili della narrazione cinematografica, alcune che funzionano di più e meglio e altre che funzionano così così. Diciamo che per quanto riguarda le cose che mi hanno colpito positivamente c'è Il ritorno di Casanova, di Salvatores, perché non solo per gli attori Servile e Bentivoglio, per questa dimensione anche della meta cinematografica, eccetera, eccetera, ma anche perché ho visto che fra gli attori secondari c'è Natalino Balasso, di cui io sono un grande appassionato soprattutto delle sue incursioni negli spazi internet. Poi un altro film che ha colpito la mia attenzione, la mia fantasia, è sicuramente Pantafa, di Scaringi, perché io sono un appassionato di horror. E quindi finalmente vedere un po' di sano horror italiano con cultura italiana, contestualizzazione italiana, riscoperta delle radici folcloristiche della dimensione dello spavento in Italia, secondo me è qualcosa a cui va completamente il mio applauso, il mio apprezzamento. Invece per quanto riguarda le cose che mi hanno lasciato un po' più così, sicuramente c'è Evelyn fra le nuvole, perché da quello che ho potuto vedere dalle sinossi che si trovano online, ma anche da un po' di trailer che circolano online, è un film, diciamo così, che ha perso una grande occasione di fare una riflessione seria sulla contrapposizione tra vita e vita digitale, diciamola che è proprio detta brutalmente, è un film che poteva andare bene con questo tipo di impostazione al netto delle innovazioni tecnologiche negli anni 60, perché qualunque, io mi occupo di questi temi, appunto di ricerca scientifica, qualunque libro di saggistica italiana contemporanea su questi temi è molto più visionario dei temi che sono stati affrontati in quel film rispetto al mondo digitale, la contrapposizione col mondo, diciamo così, non digitale. Poi c'è un film di Walter Veltroni, da un libro di Walter Veltroni, quando? A me sembrava più che altro, da quello che ho potuto capire, un film liberamente tratto dal personaggio del compagno Antonio, interpretato da Antonello Fassari nell'Avanzi del 1993, in cui si raccontava appunto in maniera umoristica di un ragazzo comunista che è andato in coma negli anni 70, si risvegliava nel 1993 con tutto il portato politico dell'epoca. Ecco, questo fondamentalmente mi rende piuttosto simpatico, il tentativo di Veltroni di fare una riflessione seria da questo punto di vista. Poi invece dal punto di vista delle mie passioni un po' più classiche, sicuramente Dungeons & Dragons. Non perché sia un appassionato di fantasy, io sono appassionato di fantascienza, non di fantasy, che nel mondo dell'immaginazione sono due mondi, veramente l'una all'antitesi dell'altro. Però Dungeons & Dragons è tutta una subcultura di appassionati, di giochi di ruolo, di interpreti che me lo rende interessanti sia come oggetto cinematografico che come oggetto culturale. Poi c'è la leva dell'ironia, sicuramente del non prendersi troppo sul serio, che sicuramente nel fantasy è un elemento importante, perché non so quanto si possa prendere sul serio un drago che va in giro a bruciare i campi. Professore degli Esposti, andiamo a Bologna e poi andremo a Napoli dal professor De Luca Piccione. Amici professori, professor Bennato, professor degli Esposti e professor De Luca Piccione. Brevemente professor Bennato, Catania. Per quanto mi riguarda sono contento che in prima e seconda posizione ci sono due film che hanno la pistola in mano, soprattutto per quanto riguarda John Wick, di cui sono un seguace fedele, appassionato fin dalla prima ora di Keanu Rivers, di questo suo personaggio, il cui regista è un extantman. Felicissimo anche del fatto di stranizza da muri, anche se io spero che abbia il tempo di scalare le classifiche, perché la storia è molto bella, oltre che resta profondamente siciliana, in senso lato, traslato e metaforico. Professore degli Esposti. Grazie.